Bentornati carissimi amici, Bricio di Storia è con voi per fare un passo indietro nella tecnologia. Buonasera professore. Buonasera a tutti, buonasera a quelli che sono maniaci di tecnologia, buonasera a tutti quelli che invece non sono maniaci. Ma ci seguono lo stesso per vedere le novità del passato. Bello, le novità del passato. Grandissimo! Questo lo metteremo sulle magliette, le novità del passato. Siamo tra il 1998 e il 1999, poco prima del millennium bug, su cui dovremmo fare una trasmissione. Te lo ricordi? Sì, l'abbiamo anche fatta. Secondo me l'abbiamo fatta una parte su una vecchia. È vero, c'era un giornale, un quotidiano. Quando giriamo, in questo momento che stiamo girando, siamo arrivati a 600 video. Quindi il tuo sogno di arrivare a 1000 è una cosa... Fattibile. Fattibilissima. Allora, vecchia telefonia. Abbiamo visto, andate a cercare i video passati sulla telefonia degli anni 90-2000. Qui siamo a 98-99 con qualcosa di particolare. Allora, prima cosa notiamo subito che è della Polti. Perché in quel periodo tutti si buttavano nella telefonia, aprivano i negozi più delle edicole e c'era un'esplosione incredibile. Era il periodo in cui uscivano le tariffe colorate, in cui i telefonini cominciavano ad avere l'autoricarica 190, in cui si poteva trasformare quelli a contratto ricaricabili, c'era tutto con la SIM. Un mercato incredibile. Quindi è un telefonino? No, non è un telefonino. Questo è, come dire... Si chiama TEL, Small TEL. Allora, Small TEL della All TEL, quindi basta aggiungere due lettere, diventa Pure Pocket Size PDA. PDA sta per... Ah, PDA sta per Personal Digital Assistant. Un segretario, praticamente. Allora, così piccolo da stare in una mano, semplice, interfaccia utente di facile utilizzo con diverse funzioni, utile per una perfetta organizzazione con rubrica, indirizzi, noti, agenda, scadenze, eccetera, interattivo per collegarsi a internet con il telefono cellulare, accesso a posta elettronica e web, versatile con tutte le necessarie applicazioni, come calcolatrici, giochi e molto altro ancora, vario, disponibile in diversi software applicativi, il più piccolo e leggero, disponibile nella versione Perla, con specchietto all'interno. Ma io non ho capito. Lui si collegava a internet o lui si collegava a internet con l'aiuto del telefonino? Con l'aiuto del telefonino. Con l'aiuto del telefonino lui si poteva collegare a internet. Ma andiamo subito a vedere, anche perché in realtà questa non è altro che un'app. Allora, in pratica io ho solo dato un'occhiata a questo, che è il libro, il manuale di istruzioni, pensavo fosse multilingue, invece no, è un libro intero solo in italiano. Ma che bello, non vedo l'ora di leggerlo. Ma perché era complicato allora gestire queste cose? Era la prima tecnologia che c'era. Non che adesso tutto fila via, tutto liscio perfettamente, ma insomma lì era peggio. Disco di installazione del software per il PC, base di ricarica e scarico dati, l'accetto per non farlo cadere dal polso, dalla mano, e questo è l'oggetto in sé. Che si apre magnificamente, si vede il schermo. Quando diceva si può navigare in internet, con uno schermo monocromo, immagino, e qui non c'è. Niente video. Eccolo qua, vi faccio vedere. Anche le immagini, niente, solo le dati. No, le immagini, qualche immagine si poteva vedere, guardate, questo è un esempio. Oh, bellissimo. E aveva per la prima volta lo schermo touchscreen. Quindi si poteva con l'aiuto di un pennino di cui adesso abbiamo solo l'illustratazione, il disegno, utilizzare il touchscreen. Probabilmente era cristalli liquidi, quindi una cosa leggermente diversa. In pratica questa era un'applicazione. Quando dice applicativi, applicazioni, sono le app che abbiamo sul cellulare. Questa era un'app per cellulare, ma non era dentro il cellulare, era un'app esterna. Quindi, e se ci pensate, ha le dimensioni di un cellulare che arrivò subito dopo. Qualche anno dopo, 5-6 anni dopo, arrivarono dei cellulari di questa dimensione, con lo sportellino, che contenevano tutto quello che aveva questo più tutto quello che aveva il telefono. Più magari qualche altra cosa e che tutto ha finito il mercato di questi. Esatto, questo è diventato obsoleto molto rapidamente. Però, il suo mercato ce l'avrà avuto, perché la sfida era dimostrare, far vedere che si aveva sempre qualcosa di innovativo e nuovo. Quindi molti l'avranno preso proprio per far vedere, guarda che cosa ho preso. Cioè, c'erano manager ai tempi che giravano con questo, perché poteva avere anche un'utilità, ripeto, una mail. Forse potevi leggerla anche da un 3310, perché lì più o meno è quello il telefono che si vede, ma lo vedevi a scorrimento. Qua riesci a vederla. A me sembra carino. Ma questo, molto. Adesso fa un po' ridere, ma ai tempi doveva essere carino o forse qualcosa di più di carino. Deveva essere una cosa anche semi-prestigiosa. Anche secondo me, perché se realmente, come c'è scritto, è touch, è quello che poi, insieme alla potenza dell'hardware, ha portato alla creazione dei telefonini di ultima generazione. Qui dice la sua potenza, da qualche parte. 8 RAM. 8 MB di RAM. Però vedi, dice, touchscreen mostra le icone delle applicazioni e varie interfacce risponde al tocco della penna o del dito. Questo, veramente, è stato il precursore dei telefonini. Lo schermo dei telefonini. Esatto. Precursore assoluto. Ripeto, probabilmente il sistema di touch era diverso da quello che poi è arrivato dopo, però ha dato l'idea. E quello che aveva dentro, probabilmente, molte cose aveva anche un cellulare, ma il cellulare, ti ricordi, che aveva un limite, mi pare, di 40-80 nomi nella rubrica. Poi si impastava. Questo ha memo, indirizzi, delle schede, cose da fare, email, calcolatrice, preferenze, e sicuramente molto più ampi. Vediamo se... Posso fare una considerazione sulla tua termine, sulla tua spiegazione di come funziona la rubrica del cellulare, che dopo i 40 nomi si impastava. Si è perfettamente un tempo. Ti intendevo. ti diceva, un altro nome, arrangiati, togli la zia e metti quel tuo amico, perché non hai più posto per niente. Secondo me, l'ho sottovalutato vedendolo, invece, è un pezzo probabilmente molto, molto interessante e che, come sempre, abbiamo fatto fatica a trovare e sul quale abbiamo fatto fatica a trovare informazioni. un obbligo. Ci corre l'obbligo di ringraziare la persona che ci ha prestato, che è Silvia e che ringraziamo tantissimo. Tieni conto che un oggetto del genere è inevitabilmente raro, prodotto per poco tempo, gettonato solo da una fascia di persone molto addentro alle questioni tecnologiche e che avessero una certa passione per questa roba. Sì, è uguale. Quindi è rarissimo. Potremmo anche metterlo in vendita a migliaia e migliaia di euro. Sì, certo. E poi, essendo della Polti, probabilmente fa anche da vaporella. Non credo. No, ok, mancava quella funzione. Questa è l'applicazione esterna, un'app esterna dei telefonini degli anni 90. E con questa orgogliosa affermazione, affermazione, questa... Cioè, chi altri propone un oggetto del genere? Ma nessuno, ma solo briciole di storia. E con questo, vi salutiamo, vi chiediamo di iscrivervi al canale, condividere, mettere un like, schiacciare la campanella per essere rinornati su tutti i video e ci vediamo al prossimo video.